L'Italia diventa arancione, con sole quattro regioni in rosso, tra cui la Sardegna che solo un mese fa era l'unica zona bianca del paese, e comincia a vedere la possibile ripartenza. Anche se è ancora presto per allentare le misure restrittive, le chiusure e le aree rosse, conferma il ministro della Salute Roberto Speranza, stanno portando i primi risultati, ma il contesto è ancora molto complicato e dobbiamo essere molto prudenti. Da lunedì, dunque, Calabria, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, ad eccezione delle province di Firenze e di Prato, che restano in rosso, si andranno ad aggiungere ad Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto, provincia di Bolzano e di Trento, in zona arancione. Riapriranno i negozi e si potrà circolare all'interno del comune di residenza. Sarà inoltre possibile, una sola volta al giorno, andare a trovare amici o parenti nel comune, in massimo due persone, oltre ai minori di 14 anni conviventi. Novità anche per la scuola, torneranno in classe anche gli studenti della seconda e terza media, mentre per quelli delle scuole superiori la didattica in presenza deve essere garantita almeno al 50%. Un leggero di alzo del tasso di incidenza dei positivi al Covid in Campania, che torna sopra la soglia del 10% dopo alcuni giorni in cui era scesa al 9%. Secondo il report quotidiano dell'unità di crisi della regione Campania, ieri su 21.149 tamponi molecolari esaminati, i positivi sono stati 2.225, di cui 763 sintomatici, mentre si sono registrati altri 31 morti. Sono state 1.967 invece le persone guarite, mentre prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale. Già dalle prime ore di questa notte la piattaforma regionale online per le prenotazioni è stata aperta anche alle adesioni per i cittadini campani over 60. E Scaffati invece torna nuovamente ad essere il comune con più contagiati della provincia di Salerno nella giornata di ieri. Sono 26 nuovi positivi, secondo il report ufficiale dell'unità di crisi della regione. Segue Salerno con 23 positivi, Mercato San Severino 22, Sarno 17, 13 nuovi positivi rispettivamente nei comuni di Cava di Tirreni, Pagani e San Valentino Notorio, 9 a Vietri sul mare, 8 a Nocera Inferiore, 7 a Nocera Superiore, 6 a San Marzano sul Sarno e Baronissi, 4 ad Angri, 3 a Fisciano ed un nuovo positivo nei comuni di Sant'Egile del Monte Albino, Siano e a Conca dei Marini in costiera amalfitana. A Nocera Inferiore muore per Covid il docente universitario ed ex candidato sindaco Dino Gustato dopo giorni di ricovero all'ospedale Rugida Aragona di Salerno. Sui social il pensiero del sindaco Maglio Torquato. Il nostro saluto ad un nocerino per bene che ha onorato con la sua vita a Nocera. Resta invece delicata la situazione sul fronte ospedaliero. Il Covid Hospital di Scafate ha di nuovo tutti i posti letto occupati, mentre all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, 8 pazienti presenti in area Covid, mentre lo paziente questa mattina era fermo in ambulanza in attesa di esami. Il virus continua ad uccidere. Sono deceduti nelle aree Covid dell'azienda Moscati due pazienti, una 79enne di Avellino ricoverata dal 6 aprile nell'unità operativa di geriatria ed un paziente di 75 anni di Montoro in ospedale al 25 marzo e trasferito ieri in terapia intensiva. E intanto anche nell'ultimo bollettino il tasso di positività in Irpinia resta invariato un 9% nelle ultime 24 ore. Abbiamo registrato 135 casi su 1.437 tamponi effettuati. Ennesimo boom di positivi per il capoluogo 17. Nuova impennata anche a Cervinara con altri 8 riscontri. 6 ad Ariano Irpino, Grotta Minarda e Sturno, tutti i paesi vicini. 5 contagi accertati invece ad Avella, Mirabella, Monte Calvo Irpino, Senerchia, Serino e 15. Almeno nell'ultimo dispaccio che annovera casi in ben 51 comuni, numeri più contenuti per quelle realtà dove nei giorni scorsi abbiamo registrato veri e propri focolai. Parliamo della bassa Irpinia dalla Serinese alla Valle Lerrino con Montoro in cima alla lista che continua a piangere vittime. In regione invece 2.225 positivi su 21.149 test con un indice di positività di un punto percentuale più elevato rispetto a quello della provincia di Avellino. In piazza per chiedere la modifica del decreto sostegni, i lavoratori del settore agricolo questa mattina hanno tenuto un presidio in piazza Mendola a Salerno per chiedere a governo e Parlamento di modificare il decreto che contiene gravi discriminazioni nei confronti del lavoro agricolo. Organizzato da FAI, CISL, FLAI, CGL e Willa Will davanti alla prefettura di Salerno, i lavoratori hanno indossato cartelli nei quali hanno messo in evidenza le loro emergenze legate alla pandemia. I sindacati chiedono in particolare il riconoscimento per il 2020 delle stesse giornate di lavoro dell'anno precedente e l'introduzione del bonus per i lavoratori stagionali agricoli assieme alla sua compatibilità con il reddito di emergenza. Siamo a sostegno di settori strategici di risorse importanti che vengono sempre un po' mortificate, così la triplice sindacale che stamani ha visto in piazza anche i segretari generali delle segreterie provinciali di FAI, FLAI e Willa, Aniello Garone, Alfiero Bottiglieri e Ciro Marino che hanno preso parte al sit-in. Il settore agricolo comprende solo in provincia di Salerno circa 25.000 abbraccianti esclusi da ogni forma di aiuto. La manifestazione ha avuto lo slogan lavoratori agricoli zero sostegni zero diritti e si è svolta nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Non è neanche pensabile che un settore come l'agricoltura, in particolare chi lavora in agricoltura, e quindi mi riferisco ai braccianti agricoli, vengono mortificati in questo modo. Credo che veramente sia vergognoso, soprattutto negli ultimi due decreti, noi non abbiamo ricevuto niente, se non addirittura paradossalmente vengono sostenuti i lavoratori stagionali, ma non gli viene elargito nulla e non si capisce il perché. A tal proposito voglio ricordare che noi, come Will, come Willa, cominceremo anche i ricorsi giudiziari, perché crediamo sia un atto discriminatorio rispetto ai lavoratori di cui non si capisce il motivo per il quale non vengono ristorati al pari degli altri lavoratori che giustamente e meritatamente ricevono questo sostegno in questo momento. Per cui cominceremo questi ricorsi, sono circa 25 mila lavoratori in provincia di Salerno, circa un milione in tutta Italia e noi cominceremo questa battaglia senza fermarci. Vogliamo portare a conoscenza la situazione in tre settori che noi rappresentiamo, quello là dell'agricoltura tradizionale, quello là della forestazione e il settore della pesca, perché a volte si dimentica che fra i tanti settori che meritano apprezzamento e punti di riferimento ci sono anche questi tre settori qua. Vi spiego perché. Intanto la pesca, che peraltro nel nostro territorio ci vede a pieno, in questi momenti particolari dove c'è un'esigenza di ammortizzatori sociali, come abbiamo visto tutti, nella pesca abbiamo il problema che gli ammortizzatori sociali in questo settore non sono come tutti gli altri settori. Non c'è stato nessun sostegno. Il decreto sostegno, lavoratori che hanno dato il tutto, il settore agricolo è quello che ha garantito, voglio dire, in questo periodo di pandemia, che hanno sofferto, hanno avuto, voglio dire, contagi e il risultato è che il governo ha dimenticato questo settore. Un settore che sostanzialmente, voglio dire, deve essere equiparato a tutti gli altri settori. Non è possibile continuare a mantenere una posizione di questo tipo. Noi abbiamo settori, provvivaismo, agriturismo, settore del vitivinicolo che è stato completamente, voglio dire, azzerato sotto questo punto di vista. Isola simbolo delle vacanze di VIP e Jet Set Capri, come tutte le località turistiche italiane, è in ginocchio a causa della pandemia di coronavirus. Nella celebre piazzetta la protesta dei lavoratori del turismo che chiedono certezze sulle riaperture e auspicano di poter tornare presto a lavorare in sicurezza. Nessuno resti indietro, dignità, lavoro e sicurezza per la ripartenza del turismo e lo slogan della manifestazione che si è svolta in contemporanea anche a Sorrento, Amalfi e Ischia. In piazza, distanti e nel rispetto delle misure anti-covid, rappresentanti degli stagionali del comparto ricettivo e alberghiero, operatori del trasporto turistico e dello spettacolo, guide turistiche e tutte le categorie dell'indotto da tempo senza lavoro, penalizzati dalle chiusure o esclusi dagli aiuti di Stato. Siamo stati un anno completamente fermi ed ora abbiamo voglia e necessità soprattutto anche di ripartire. Date l'isola con il covid free, quello ha fatto la Grecia, in modo tale che la gente viene qui al sicuro, senza nessun problema. Domande non ce ne sono più da fare, attendiamo solo risposte, risposte dal governo, risposte dal nostro amministratore Speranza. Ecco perché ho messo fra virgolette la Speranza. La Speranza è che abbiamo noi di riaprire, di ripartire per non morire due volte, perché una volta già ci ha fatto fuori il covid, adesso non possiamo più attendere di non riaprire, moriremo per la seconda volta. Siamo stanchi di essere invisibili ed ignorati, vogliamo lavorare in dignità, diritti e in sicurezza, hanno affermato i promotori del sit-in. Tra le richieste, decontribuzione per le aziende, sostegno sicuro e continuativo per coloro che hanno perso il lavoro, sostegno al comparto extra alberghiero, contributi agli integrativi del reddito, chiari protocolli di sicurezza, somministrazione veloce dei vaccini, in modo da garantire la ripartenza della stagione turistica in un'isola covid free. Eredi di una prestigiosa tradizione risalente a prima dell'unificazione d'Italia, la Polizia di Stato, con assoluta fedeltà allo Stato e indipesa della collettività, ha assicurato da 169 anni il mantenimento dell'ordine della sicurezza pubblica, facendosi interprete sul territorio dell'Alto Magistero affidato alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, preposta al coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Attraverso le proprie donne e i propri uomini, chiamati a ricoprire questo difficile ed essenziale compito, la Polizia di Stato, nelle fasi anche più drammatiche della storia del Paese, ha contribuito in maniera decisiva alla coesione della nazione e ha garantito, sin dalla nascita della Repubblica, la tutela delle libertà fondamentali e la saldezza delle istituzioni democratiche, assicurando altresì i presupposti per il progresso e il benessere collettivo e dei singoli, 1852-2021, territorio nazionale. Presidente! Onori! Onori alla bandiera della Polizia di Stato! Onori alla bandiera della Polizia di Stato! Un evento speciale tenuto sotto i portici del Palazzo della Questura di Piazza Mendola che quest'anno ha coinciso con i 40 anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento con la legge 121 del 1981 con la quale la Polizia di Stato ha assunto l'attuale veste di corpo civile militarmente organizzato per garantire la tutela dello Stato e dei suoi cittadini, prevenire e contrastare tutte le espressioni della criminalità e le turbativi all'ordine e alla sicurezza pubblica. Una cerimonia ridotta racchiusa nella deposizione della corona di fiori a ricordo dei caduti dinanzi alla lapide collocata all'esterno degli uffici della Questura di Salerno. A deporla il questore Maurizio Ficarra alla presenza del prefetto Francesco Russo del cappellano della Polizia Don Giuseppe Greco, il ricordo delle tante donne e uomini in uniforme che hanno sacrificato la propria vita a servizio delle istituzioni e dei cittadini. Un anno denso di attività per la Questura di Salerno chiamata a dover gestire i controlli in seguito alla pandemia. Un anno di bilanci dove emerge una diminuzione dei delitti, degli omicidi, dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali, così come delle rapine mentre sono aumentate le truffe e le frodi informatiche, così come gli episodi di maltrattamenti. Nel corso dell'anno 2020 e in questi primi mesi del 2021 tutte le attività di polizia sono state rimodulate a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid. Di particolare rilevanza sono state le attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno e dalle procure della Repubblica di Nocera e Vallo della Lucania condotte dalla squadra mobile e dai commissariati di pubblica sicurezza, rivolte prevalentemente al contrasto dello spaccio di droga che hanno consentito l'arresto di noti pregiudicati e il sequestro di armi e significativi quantitativi di sostanze stupefacenti. Particolarmente intensa è stata, nell'anno appena trascorso, l'attività dell'ufficio Digos e delle specialità della Polizia di Stato, Polizia Stradale, Ferroviaria, Polizia delle Frontiere, Polizia Postale e delle Comunicazioni. Notevole è stato l'impegno dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che oltre a garantire i controlli Covid hanno con altrettanta determinazione contribuita ad innalzare il livello di sicurezza nel capoluogo e nelle sedi dei commissariati di pubblica sicurezza distaccati. Sì, un giorno molto importante. Avremmo voluto viverlo diversamente, avremmo voluto viverlo in mezzo alla gente, tra i cittadini, come abbiamo sempre fatto, anche perché è il quarantennale della nascita della Polizia di Stato. Questo è un anno doloroso per tutti. Noi stiamo vivendo con molto dolore questa situazione, sia per l'emergenza sanitaria ovviamente, con tutti i lutti che ha visto nel nostro Paese. Noi come amministrazione su 90.000 poliziotti abbiamo registrato 10.000 contagiati. Fino ad oggi speriamo che si fermi questi contagi nell'ambito della Polizia di Stato e abbiamo anche 14, purtroppo, poliziotti che hanno perso la vita. Anche questa è un'attività difficilissima quella che facciamo. Facciamo un'attività difficilissima perché abbiamo l'obbligo di fare rispettare tutte le norme anticontagio, abbiamo l'obbligo di indurre i cittadini a rispettare le leggi, però abbiamo la condivisione del dolore e della sofferenza che stanno passando tante famiglie per i lutti che hanno subito e per le malattie che hanno subito e la situazione del nostro Paese che, come vedete, è davvero particolarmente critica dal punto di vista economico perché registriamo ogni giorno ancora l'incedere dei contagi che non consente una ripartenza economica che darebbe davvero un po' di respiro a tante categorie professionali e a tanti lavoratori del nostro Paese. È chiaro che con una ridotta mobilità sul territorio tutti i reati che presuppongono appunto una mobilità più evidente, andare nelle case o altro, riceve una diminuzione. Fortunatamente speriamo che rimanga così. Purtroppo il traffico di droga, come testimone dell'operazione che noi abbiamo compiuto nei mesi scorsi, continua incessantemente. E questa è anche la nostra preoccupazione, non solo per il traffico degli stupefacenti, soprattutto quando si indirizza ancora di più nei confronti dei più giovani, ma perché temiamo che questi utili possano essere reinvestiti, non appena ci dovesse essere e ci sarà quanto sicuramente prima possibile la ripresa economica, noi temiamo che questi utili che hanno fatto con gli stupefacenti possano essere reinvestiti. E la nostra attenzione è altissima su questo versante. Il ragazzo che lavorava alla stradale, anche se in servizio all'UPG di Napoli, un ragazzo che io l'avevo conosciuto molto superficialmente per i racconti dei colleghi, sicuramente una persona piena di vita, con molte attività, molti interessi. Ci ha colpito profondamente, non solo per la giovane età, perché è deceduta a 41 anni dopo una lotta veramente estrema contro il mare, ma proprio perché era inserita a pieno di titolo nella sua comunità. Come il nostro motto, non lo dico senza retorica, esserci sempre vuol dire anche questo, esserci non solo quando faceva il nostro lavoro con la divisa blu, ma essere proprio, vivere la comunità a 360 gradi. Lui lo faceva veramente. È stato dedicato a Giuseppe Manfra, il 41enne poliziotto di Candida, stroncato dal Covid, il 169esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Una festa insordina, quella di quest'anno, toni bassi, nessuna celebrazione, solo la corona d'alloro in ricordo dei caduti, con il pensiero che inevitabilmente va a tutte le vittime del Covid. Il questione Maurizio Terrazzi ha voluto dedicare pensiero omaggio a Manfra. Anche le nostre file, purtroppo abbiamo avuto dei tributi dolorosi, 14 vittime e quasi 10.000 contagiati, anche qui in provincia abbiamo perso un ragazzo giovane. È chiaro che però siamo tutti, tutti insieme, tutti uniti, nella determinazione di fare quello che è il nostro compito, il nostro dovere. Voi, dei dati che vi abbiamo dato, avete visto benissimo, che l'anno trascorso è stato veramente preso, quasi integralmente, come energie e risorse da questa attività di prevenzione che abbiamo fatto, ovviamente insieme ai colleghi delle forze dell'ordine e sotto il condimento del prefetto. Però il ricordo è fortissimo perché lo stiamo ancora vivendo, quindi non stiamo parlando del passato. Un rischio per la salute è una frode per molti ignari acquirenti. Le cozze abusive possono essere davvero pericolose. Due impianti abusivi per l'allevamento di mitili sul demanio marittimo che si estende dal porto commerciale di Napoli fino alla rada di Santa Lucia sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Circa 100 tonnellate di frutti di mare già maturi erano pronti per essere commercializzati senza la necessaria certificazione della provenienza e del rispetto delle normative sanitarie sulla tracciabilità e la salubrità. Gli impianti abusivi di miticoltura sono riconducibili a uno degli impianti criminali coinvolto nel disastro ambientale legato alla raccolta di datteri di mare nello stesso golfo di Napoli per il quale furono applicate 19 misure cautelari, come spiega il tenente colonnello Tossini. Oltre a costituire valore immessi al consumo un serio pericolo per la salute dei consumatori finali e inquinato fortemente l'economia legale e la libera concorrenza sul mercato avrebbero generato profitti illeciti per oltre 300 mila euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche Manolas ha lo stesso obiettivo. Lui e Maximovic si giocano un posto al fianco di Koulibaly. Nel tridente, dietro alla punta, Osimen e Mertens sono testa a testa, potrebbe rivedersi Lozano dal primo minuto. Cinque cambi rispetto all'undici titolare sceso in campo a Torino. Quindi ci sarà Ospina tra i pali, con Manolas in coppia con Koulibaly, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, a centrocampo confermati Dem e Fabian, mentre in attacco spazio appolitano con Zelischi ed Insigne e soprattutto Osimen di punta. A contendersi il posto di Goulam saranno nel frattempo Mario Rui e Yusai, che non ha convinto con la Juve e rischia per questo di scivolare in panchina. Dall'ora in poi è finita l'emergenza, le gerarchie nel Napoli saranno dettate dal rendimento dei calciatori in partita e anche negli allenamenti a Castelvolturno, a cui Gattuso tiene in maniera particolare. Amici trevinete o bentornate a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà un forte peggioramento del tempo in diverse zone dell'Italia. La perturbazione che già nel corso di sabato ha raggiunto parte delle nostre regioni si estende a tutto il centro nord con fenomeni anche piuttosto diffusi e insistenti, meglio nelle regioni meridionali. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista sull'Italia e guardate al centro nord, davvero nuvole estese e compatte, qualche velatura passa anche dalle regioni meridionali ma lì nuvolosità di poco conto, quantomeno senza effetti particolari. Precipitazioni in tutto il centro nord praticamente, ma soprattutto nelle regioni settentrionali sull'Alto Tireno coinvolte in parte anche l'Umbria e l'Alto Lazio. Però attenzione al nord ovest pioggia anche piuttosto insistenti, quindi in definitiva ci attende una domenica bruttina diciamola tutta al centro nord, soprattutto nelle regioni settentrionali sull'Alto Tireno, piogge diffuse, insistenti, situazioni che potrebbero anche diventare delicate in alcune zone, quindi attenzione, piogge un po' meno diffuse sul medio adriatico, però anche lì tempo variabile, invece al sud come vedete non mancheranno delle belle scherite e al sud clima anche mite. Grazie a tutti.